Basta violenza sulle donne, stop femminicidi. Anche a tre giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne non si spegne la eco su questa tematica. Continuano le iniziative di sensibilizzazione in tal senso. Una di queste arriva dal mercato settimanale del martedì al San Decenzio di Pesaro, dove gli ambulanti con questo piccolo gesto hanno voluto trasferire un grande messaggio ai tanti avventori del mercato. Ogni stand, ogni bancarella ha affisso uno di questi messaggi per portare un piccolo grande contributo verso un cambiamento culturale. Noi vorremmo sensibilizzare questi femminicidi che ogni giorno sono sempre in aumento e vogliamo dire basta da uomo, da cittadino e da persona. Noi abbiamo veramente un cuore e vorremmo che le donne fossero rispettate molto di più. Quindi solidarietà massima e le donne vanno rispettate, come dicono questi cartelli, e non uccise. Ambulanti che si impegnano verso questa sensibilizzazione, clienti che apprezzano quello che è rimarcare un messaggio tutt'altro che scontato. Credo che sia importante perché alla luce dei fatti avvenuti negli ultimi giorni comunque si capisce che c'è un problema sociale che va trattato e secondo me siamo anche diventati ormai abituati a tutti questi episodi e non fanno nemmeno più scalpore come poteva essere qualche anno fa. Quindi credo che sia bene ricordare ogni singolo episodio per quello che è stato e per quello che ha provocato e per le perdite che ha dato. Grazie a tutti.